Intervenuti questa sera nonostante le condizioni atmosferiche di questo incontro, che è il primo incontro del circolo di libertà e giustizia di Casale Monferrato e il circolo si è costituito qualche mese fa dall'incontro di persone di buona volontà che hanno ritenuto che ci fosse una necessità anche a Casale forse soprattutto a Casale anche per la situazione politica che ci dovevano affrontare, di trovarsi in un circolo di un'organizzazione che vuole essere trasversale sopra e oltre i partiti politici, proprio dal manifesto costitutivo di libertà e giustizia questa organizzazione vuole intervenire a spronare i partiti perché esercivino fino in fondo il loro ruolo di rappresentanti di valori ideali e di interessi legittimi e vuole arricchire culturalmente la politica nazionale con le sue analisi e proposte e vuole essere l'anello mancante fra i migliori fermenti della società e lo spazio ufficiale della politica. Questo è quello che dice il manifesto fondativo di libertà e giustizia e questo è anche il nostro utento. Lascio la parola al coordinatore del circolo di Casale di libertà e giustizia, l'avvocato Germano Carteleno. Buonasera a tutti e benvenuti, grazie di aver sfidato le intemperie, d'altra parte la benuscita e il nome prestigioso del primo ospite credo che valgano bene due voce d'acqua. Come ha premesso Giovanni Calabrese, il nostro circolo, meglio la nostra associazione ha la funzione di volano tra la società civile e i partiti politici. Voglio dire, tra la società civile e la politica ufficiale. Quindi svolge direi un duplice ruolo. Innanzitutto far sì che la politica cosiddetta ufficiale recepisca le istanze della società civile e poi svolgere una funzione che chiameremmo, forse presumposamente, ma questa comunque è la funzione dichiarata statutaria, propedeutica al fine di preparare coloro che vogliono attingere la politica ufficiale, prepararli con il presupposto dei rudimenti di principi e di valori che purtroppo vanno scomparendo. Dico purtroppo vanno scomparendo perché è in dubbio che la società italiana ha subito una modifica, ma una modifica in peggio, ha subito ovvero un deterioramento cospicuo e evidente ormai quantomeno negli ultimi quindici anni. A buon intenditori, ma qui siamo tutti ottimi intenditori, in poche parole perché poi saprà doviziosamente e pervescuamente dire il professor Revelli. Il professor Revelli che è ordinario di storia contemporanea presso l'Università del Piemonte Orientale, ovvero avvocato, che è autore di numerose pubblicazioni, che ha scritto pagine direi brillantissime. Dapprima io ho conosciuto, ho cominciato a conoscerlo tramite pagina che ha scritto già da alcuni anni su un tema che è tuttora scottante, ma che lo stesso professore ha detto ma io ormai l'ho abbandonato e forse fa bene il tema del revisionismo e preferirei parlare della trasformazione della società italiana negli ultimi anni. Sono Revelli anche ai miei occhi, lo dubito anche ai vostri, un grosso pregio che non è un merito, perché l'eredità ne vale un merito. Però è un'enorme dote nel suo caso, è il figlio dell'indimenticabile Nudo Revelli, l'autore di quel mondo dei vinti che io imporrei come libro di testo in tutte le scuole medie quanto meno superiori. Al fine di far capire a questi giovani così brillanti e così non curanti del mondo che li circonda che cos'è in fondo la vita e la vita in certe situazioni. Non aggiungo altro, la parola al professor Marco Raffa. Grazie, grazie per l'invito a questa serata e grazie a voi che siete qui numerosissimi, visto il clima il clima in tutti i sensi, il clima politico, il clima meteorologico, è davvero importante incontrarsi, davvero importante tanto più in momenti delicati come questo, non affrontarli da soli, avere delle occasioni come questa per riflettere collettivamente. Io vorrei proprio partire dal punto che è stato messo bene a fuoco nella produzione dell'avvocato Carpene, dal degrado del nostro paese. Non c'è bisogno di insistere troppo su questo termine comunque pesante. Il degrado evidente su molti livelli, evidente dal punto di vista istituzionale nell'introduzione a Controcanto, il libro che ho pubblicato all'inizio di quest'anno, parlavo di un processo di liquefazione del nostro quadro istituzionale. Un po' come l'orologio di Dalì, che diventa molle e si piega e si adatta alle pieghe del tavolo su cui è posato. Il nostro quadro istituzionale, che dovrebbe essere la cornice stabile, così come è stata disegnata dal costituente, dai padri costituenti, la cornice stabile dentro la quale avviene il confronto politico, da qualche tempo è diventato invece pieno di sabbie mobili, è diventato a sua volta mobile, precario. Lo vedete, quest'ultima follia dell'ipotesi di scioglimento di una sola camera è una sfida al buon senso costituzionale e istituzionale e tuttavia a libero corso nella discussione. Non avremmo mai immaginato di assistere a una moltiplicazione dei complitti non tanto e non solo tra forze politiche, ma tra istituzioni, il capo del governo contro la magistratura, il capo del governo spesso contro il capo dello Stato o addirittura la Corte Costituzionale, che è il massimo organo di vigilanza sulle nostre istituzioni. i due presidenti dei due rami del Parlamento, appartenenti alla stessa maggioranza in origine che confliggono tra di loro. Ecco, se questo non è liquefazione istituzionale, in un momento così delicato di passaggio generale, non solo del nostro Paese, davvero per lanciare un alarm e non so cosa sia necessario. Quindi degrado politico-istituzionale, degrado morale ovviamente e su questo non è il caso di soffermarsi. Io vorrei inserire tutto questo nel contesto a mio avviso poco considerato, ma decisivo, del degrado sociale ed economico. Il nostro quadro istituzionale si decompone e in buona misura la nostra residua e scarsa morale politica si degrada nel contesto di un piano inclinato, di un Paese che negli ultimi due decenni, nell'ultimo quindicennio, nell'ultimo ventennio, è impercettibilmente forse, perché non ce ne siamo sempre accorti, ma è sceso di anno in anno, è declinato di anno in anno, come su un piano inclinato, è sceso, finché a un certo punto, un giorno, ci siamo guardati allo specchio e non ci siamo più riconosciuti. questo a me avviene sempre più spesso leggendo i giornali negli ultimi, negli ultimi, la difficoltà a riconoscere il mio Paese nelle sue diverse parti. Devo dire, non mi ero mai riconosciuto totalmente, questi sono sempre state due Italie in qualche misura, antropologicamente diverse, antropologicamente diverse, ma da qualche anno un'Italia, una delle due Italie si è dilatata spaventosamente e l'altra Italia è diventata sempre più silenziosa, con nobili e importanti eccezioni, ma nello spazio pubblico sempre meno presente. Bene, male, anzi, ma tutto questo io credo si inquadra in un contesto di sfarinamento sociale, di declino sociale, di cui forse è importante incominciare a dare le misure, è importante incominciare a misurarlo. Io questa sera userò molti numeri, ve lo dico subito, un po' come mettendo le mani avanti, vi ammanirò molte cifre che sono di per sé aride, sono le cifre che abbiamo raccolto in tre anni come commissione, cosiddetta commissione povertà, la definizione ufficiale è commissione di indagine sull'esclusione sociale, è una commissione che è istituita per legge presso il Ministero che ha le deleghe per le politiche sociali, che ha il compito anno per anno di fare la fotografia sociale del Paese, di misurare le dimensioni della povertà e dell'esclusione sociale nel Paese. Commissione evoluta fin dalla fine degli anni 70 da una grande figura, spesso dimenticata ma importantissima nel nostro panorama, Germano Gorieri, il quale si battè come un leone perché in Italia si cominciasse a misurare le dimensioni della povertà, fino ad allora non c'era nemmeno un indicatore, non c'era nemmeno uno strumento statistico, nemmeno uno strumento matematico per misurare la dimensione dell'indigenza e della povertà e della deprivazione in questo Paese. Gorieri si battè, fu istituita allora una commissione, questa commissione che per anni lavorò a definire un indicatore di povertà, che è quello che oggi viene usato dall'Istat e che noi abbiamo di volta in volta documentato e dagli anni 80 anni poi la commissione ha lavorato a tutto questo. Negli ultimi tre anni abbiamo toccato di presiederla e questa sera utilizzerò una parte consistente del lavoro, dei dati, dei risultati a cui siamo arrivati con questo lavoro collettivo. Saranno numeri aridi, ma credo che anche questo abbia un significato politico. Se c'è un aspetto, forse non il peggiore, perché ce ne sono tanti di peggiore, ma se c'è un aspetto tipico del berlusconismo è la retorica, la costruzione arrogante e prevalicante di un racconto totalmente separato dalla realtà. Il berlusconismo ci hanno avvolto in un involucro narrativo, in una narrativa, come dicono i tecnici, i linguisti, in un piano di irrealità anche questo.